ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo video se eravate alla ricerca di un metodo che vi permettesse di rendere un elemento grafico all'interno del vostro sito appiccicoso quindi che quando l'utente insomma scorre all'interno magari di una vostra pagina un elemento resta appunto appiccicoso sullo schermo e scorre quando l'utente va a scorrere il contenuto del vostro sito ecco all'interno di questo video vi farò dare un fantastico plugin che vi permette di fare esattamente questo comunque se questa è la prima volta che vedete uno dei miei video tutorial io mi chiamo Roberto Marchesini e sono il fondatore di assistenza WordPress ovvero un sito web dove io insieme al mio team aiutiamo soprattutto aziende professionisti a crearsi e a gestirsi il proprio sito web utilizzando la piattaforma WordPress naturalmente noi stessi di assistenza WordPress abbiamo realizzato tantissimi progetti per i nostri clienti e abbiamo già avuto modo di utilizzare il plugin che vi faccio vedere tra pochissimo a schermo sui siti dei nostri stessi clienti quindi conosciamo abbastanza bene il plugin e penso trarrete insomma vantaggio nel vedere questo fantastico video quindi dopo questa introduzione direi di passare subito alla parte pratica di questo video così vi faccio vedere un attimo una panoramica del plugin ma poi lo vado anche ad installare su un'installazione demo di WordPress così vi faccio vedere tutte le impostazioni e vi faccio vedere anche un esempio pratico di come potete appunto andare a rendere un elemento grafico all'interno del vostro sito appiccicoso in inglese si direbbe sticky ma comunque in italiano avete capito che sarebbe praticamente un elemento all'interno del vostro sito che appunto è appiccicoso quando l'utente scorre all'interno della vostra pagina web quindi ragazzi direi di passare subito alla parte pratica di questo video bene ragazzi adesso ci troviamo sul sito di wordpress.org naturalmente siamo sulla sezione relativa ai plugin e questo è il plugin che vi vado a presentare all'interno di questo video come vedete il plugin ha ricevuto diciamo molte recensioni positive infatti sono praticamente tutte a 5 stelle in quanto è un plugin completamente gratuito esiste anche una versione a pagamento quindi la versione pro ma comunque per la maggior parte di voi sono sicuro che già la versione gratuita del plugin sarà più che sufficiente detto questo come vedete da questa icona quindi questa animazione diciamo questo plugin appunto vi permette di far scorrere un determinato elemento all'interno di una pagina del vostro sito o all'interno insomma di molteplici pagine ora naturalmente questo è un tutorial molto pratico qui se volete ovviamente trovate tutta un po la descrizione di quello che mi permette di fare il plugin comunque io ho preparato un sito demo per realizzare questo tutorial quindi vi faccio vedere proprio il corretto funzionamento del plugin naturalmente adesso vado all'interno del nostro server come sempre ragazzi se dovete ancora andare ad acquistare un vostro dominio il vostro spazio di hosting o se volete andare a trasferire insomma il vostro sito web all'interno dei nostri server noi offriamo questo servizio e trovate insomma maggiori informazioni sul link che vi lascio sotto a questo video comunque questo è il nostro pannello di controllo quindi il pannello di amministrazione vado semplicemente all'interno di questo sito demo quindi assistenza.wponline.eu e questa è semplicemente un'installazione pulita di wordpress e qui ho semplicemente importato diciamo un template demo detto questo andiamo naturalmente sulla baccheca di questo sito vado magari ad aprirmi anche il sito in una nuova scheda qui sulla destra e andiamo semplicemente ad installarci il plugin quindi andiamo qui su plugin aggiungi nuovo e sulla barra di ricerca naturalmente andiamo a ricercare innanzitutto il plugin ora prima mi sono dimenticato di andarlo a copiare comunque me lo vado a copiare torno qui e lo andiamo ad incollare naturalmente il plugin ci uscirà tra i primi risultati eccolo qui lo andiamo ad installare ed attivare su questa mia installazione demo mi raccomando di fare attenzione comunque che poi la procedura per rendere un elemento sticky non è proprio semplicissima ma adesso vi faccio vedere come fare quindi state tranquilli detto questo semplicemente qui vado a premere su impostazioni sul nome del plugin naturalmente che ci porta appunto sull'apposita pagina qui potete andare tranquillamente a chiudere questo pop up e adesso come vedete qui ci troviamo su impostazioni sticky menu è stata aggiunta questa nuova voce naturalmente qui ragazzi dove vedete in giallo queste sono tutte funzionalità che vi mette a disposizione il plugin se lo andate ad acquistare comunque sia ora praticamente qui all'interno di questo campo dovete andare ad inserire come potete vedere la classe css dell'elemento che volete andare a rendere sticky adesso vi faccio vedere subito come fare quindi adesso ad esempio andiamo sull'home page mettiamo caso che io voglio andare a rendere sticky questa immagine ok quindi faccio tasto destro sull'immagine faccio ispeziona e praticamente vi consiglio di andare a premere su questa icona se utilizzate google chrome o derivati ma anche se utilizzate firefox o un altro browser sicuramente hanno questa funzionalità quindi andiamo a premere su questa icona spostiamo il mouse sull'elemento che vogliamo andare a rendere sticky quindi questa immagine abbiamo detto e come potete vedere adesso praticamente qui se vado a cliccare sulla voce più per andare ad aggiungere una nuova regola qui come potete vedere questa è la classe css di questa immagine ora onestamente questa qui praticamente sarebbe proprio la classe css di tutte le immagini quindi non solo di questa in modo questa sotto invece potete prendere il codice che c'era già segnato qui sotto andate a copiarvi tutto questo codice tornate qui sull'area di amministrazione di wordpress e andate ad incollarvi il codice css in questo modo una volta fatto questo naturalmente andate a salvare i cambiamenti quindi ecco qui che adesso abbiamo apportato i cambiamenti torniamo sulla nostra home page andiamo tranquillamente a chiudere diciamo questo strumento andate a ricaricare la pagina per vedere se effettivamente insomma le modifiche sono state apportate e se scorro la pagina come vedete ecco che l'immagine scorre insieme con la pagina adesso siamo in fondo dello schermo ma comunque come potete vedere quando il visitatore arriva a vedere questa immagine e inizia a scorrere la pagina come vedete l'immagine rimane attaccata quindi questo è esattamente quello che vi permette di fare il plugin ora se torno in alto e scorro la pagina come vedete tutti gli altri elementi non scorrono con la pagina mentre questa immagine sì quindi significa che abbiamo scelto la classe css corretta adesso andiamo a fare un altro esempio quindi mettiamo caso che voi volete andare a rendere questa sezione quindi tutta questa sezione appunto sticky quindi appiccicosa andate a fare il tasto destro sempre sull'elemento poi andate sempre a cliccare su questa icona e spostate il mouse sull'area che volete andare a rendere sticky quindi se adesso sposto il mouse qui sulla destra come vedete mi viene selezionata tutta questa area e non un singolo elemento quindi andiamo a selezionare questa area se volete vedere cosa avete selezionato spostate il mouse su questo codice e vedete che questo è praticamente evidenziato e come vedete abbiamo evidenziato tutta questa sezione se spostate il mouse qui sopra ok mentre spostate il mouse ad esempio mettiamo caso sotto vedete che vengono selezionati gli elementi sottostanti comunque mettiamo caso che voglio rendere sticky tutta questa sezione quindi andiamo a selezionare e ancora una volta adesso andiamo ad incollarci questo codice quindi il primo che vedete qui sulla destra lo andiamo proprio a copiare quindi ctrl c da tastiera andiamo sulla voce qui sempre all'interno di questo campo ora vado ad eliminare l'elemento precedente vado ad incollare la nuova voce che mi ero appena copiato andiamo a salvare i cambiamenti e adesso naturalmente se torno sull'home page e vado a ricaricare la pagina quindi andiamo semplicemente a ricaricarla se scorro la pagina ecco qua e come vedete adesso l'intera sezione viene trascinata quando l'utente scorre con la pagina quindi come potete vedere il plugin funziona perfettamente l'unica cosa naturalmente è che dovete fare molta attenzione ad andare a selezionare la classe css corretta altrimenti naturalmente non andate a prendere l'elemento che volete andare a trascinare all'interno della vostra pagina vedo questo naturalmente all'interno di questa pagina potete trovare anche tante altre impostazioni che mi permettono di fare diciamo diverse cose queste qui sono tutte impostazioni diciamo a pagamento comunque una cosa che sicuramente volete fare è magari andare ad aumentare il padding o il margine insomma che c'è qui in alto quando si arriva sull'elemento da rendere sticky quindi adesso ad hoc e croce se non sbaglio questo è a 10 pixel comunque torno qui su queste impostazioni e come pixel magari diamo mettiamo caso 30 pixel andiamo sempre a salvare i nostri cambiamenti in questo modo torniamo sulla nostra bella home page andiamo a ricaricare sempre la pagina ovviamente questa cosa è fondamentale adesso se scorro la pagina ecco come vedete il padding quindi anche il margine è aumentato su questo elemento quindi se volete rendere diciamo più visibile l'elemento quando si scorre ecco come potete fare naturalmente qui ragazzi c'è un'altra sezione molto importante qui alla fine che vi permette di andare a rendere l'elemento sticky diciamo su diversi dispositivi infatti di default l'elemento viene messo come appiccicoso su tutti i dispositivi quindi sia da computer quindi desktop ma anche da mobile quindi da smartphone tablet e così via se non volete fare questa cosa qui potete andare ad aumentare diciamo questa cosa quindi ad esempio per mettiamo caso schermi di maggiore dimensione di mettiamo caso 500 pixel non vogliamo andare a caricare quell'elemento in modo sticky quindi andiamo a salvare i cambiamenti torniamo sempre all'interno di questa pagina e adesso se andiamo sempre qui su ispeziona quindi ispeziona oppure f12 da tastiera se andate a cliccare su questa icona praticamente adesso qui potete vedere come si visualizza il sito web da mobile quindi ora se scorro la pagina praticamente vedrete che questo elemento come vedete resta appiccicoso ora siamo come vedete di larghezza 400 e 6 pixel quindi ancora si visualizza se adesso vado a ricaricare la pagina ora che abbiamo impostato che non diventa sticky per schermi diciamo inferiori a 500 pixel ora se torno qui e scorro la pagina ecco come vedete questo elemento non diventa più sticky vi faccio vedere nuovamente giusto per farvi vedere partiamo magari dalla pagina qui in alto se scorro la pagina ecco che per questa dimensione di schermo l'elemento resta fermo lì dove diciamo se vado nuovamente a cliccare qui andiamo a vedere la vista desktop ecco invece che l'elemento risulta essere sempre sticky ancora vi faccio vedere un'altra volta se vado a ricaricare la pagina ecco qui che l'elemento risulta essere sticky da desktop ma tasto destro ispeziona da mobile quindi clicchiamo su questa icona ecco qui che come vedete l'elemento resta fisso sulla pagina quindi questa cosa sicuramente utile perché da mobile non volete che questo elemento diciamo resta appiccicoso altrimenti l'utente non riesce a visualizzare correttamente l'intera pagina web come ultima cosa ragazzi adesso vado a chiudere questa schermata se torno qui sulle impostazioni del plugin e andiamo sulle impostazioni avanzate qui c'è lo z index praticamente che cos'è lo z index in sostanza se scorro la pagina come vedete adesso praticamente questa sezione risulta essere sopra alle sezioni sottostanti quindi come vedete è sovrapposta diciamo così se il vostro elemento non si dovesse vedere in modo appunto sovrapposto quindi diciamo a livello superiore rispetto a tutti gli altri elementi che sono stati inseriti all'interno della vostra pagina semplicemente andate qui sulle impostazioni avanzate e come z index andate a mettere un valore ad esempio di 9999 quindi un valore molto molto alto andate a salvare i cambiamenti e vedrete che poi il vostro elemento risulterà essere ben visibile sopra tutti gli elementi che avete inserito all'interno della vostra pagina web bene ragazzi siamo arrivati alla fine anche di questo tutorial come avete visto un plugin semplice ma che sicuramente vi può tornare di aiuto per il vostro progetto online adesso o in futuro mi raccomando se con questo video vi sono stato di aiuto quantomeno vi invito a lasciarmi un bel mi piace sotto a questo video così mi aiutate insomma a condividere il video con più persone possibili e se non l'avete ancora fatto potete anche iscrivervi al nostro canale youtube oppure di mettere sempre un bel mi piace sulla nostra pagina facebook così verrete notificati ogni qualvolta insomma andrò a creare nuovi video sempre su questi argomenti che penso vi possono tornare di aiuto per i vostri progetti come sempre comunque se avete dubbi o domande sul video che avete visto potete tranquillamente lasciarmi il vostro commento utilizzando il box che trovate sotto al video non mi resta altro che salutarvi ragazzi grazie mille come sempre se siete arrivati a vedere la fine dei miei video tutorial quindi io vi saluto ma noi naturalmente ci vediamo all'interno del prossimo video quindi ciao ragazzi e ci vediamo nel prossimo